Finisce 2-2 e al Barletta serve poco, visto che per solo una lunghezza ha la spunta la cremonese. Primo tempo a guardare il Piacenza, che ci prova con più piglio, ma seconda frazione di gioco davvero emozionante, ma che alla fine lascia tanto rammarico visto che a Cremona, anche non arrivando alla vittoria per i padroni di casa, arriva lo stesso il passaggio ai play-off. Ma tornando alle cose di Piacenza-Barletta, bisogna solo concentrarsi su due punti che hanno segnato la gara dei Biancorossi. Il raddoppio di Franchini, che ha messo a segno la sua doppietta personale, che vedeva spalancarsi le porte del Paradiso e poi purtroppo il pareggio del Piacenza, arrivato quando forse bisognava davvero controllare gli ultimi minuti con possesso palla e magari palla in tribuna, senza pensarci due volte. È andata così ed ora i conti di fine stagione, tra differenza reti e scontri diretti, bisognerà metterli da parte e aspettare l'ultimo appello che resta. Sperare cioè che Albarletta torni indietro il punto di penalizzazione e magari, che proprio in merito alle ultime notizie arrivate da Cremona, si possa assistere ad uno stravolgimento della classifica per eventuali deferimenti che potrebbero arrivare dopo le ultime dichiarazioni di Gervasoni e Compari sulla vicenda calcio scommesse. Non sarà la stessa cosa per qualcuno, ma in guerra, così come in amore, ogni colpo, anche il più proibito, è concesso per il fine al quale si mira. Al di là di ogni cosa però restano in testa i canti e l'incitamento di coloro che nell'ultima gara di campionato hanno ancora una volta macinato chilometri su chilometri per difare Barletta senza mai lasciare solo la squadra del cuore. E poi tutti coloro che anche da casa, con la loro passione, hanno provato a spingere quella palla in rete per arrivare ai playoff che non sono arrivati sul campo. Il primo tempo in cui abbiamo subito il Piacenza che ce l'ha messa tutta, ci ha messo anche alle corde in qualche circostanza, siamo scesi in campo nel secondo tempo con un altro atteggiamento e a un certo punto meritavamo la vittoria. Siamo riusciti anche dopo il pareggio del Piacenza a trovare l'energia, la forza, la determinazione per tornare di nuovo in vantaggio e a quel punto onestamente solamente un errore dell'arbitro, a detta dei miei giocatori, che ha causato una punizione nel tempo di recupero e devo dire poi con un gesto straordinario e giovio se non sbaglio, che l'ha messa nel sette. Insomma, solo questo ci ha penalizzato perché la squadra ha fatto una grande prestazione, ha aurorato il calcio e sicuramente meritavamo di vincere a un certo punto, per quello che abbiamo espresso anche in diverse occasioni. Abbiamo avuto delle palle gol. Si riferisce anche a quella di Di Gennaro, il pallonetto di Mazzeo e la prima ancora quella di Infantino. È stata una partita vera, è stata una partita giocata col cuore da tutte e due le squadre e questo oggi penso che ci rende orgogliosi di aver onorato il calcio.